Alzi la mano gli estanco di questo 2020. Ciao belli, bentornati sul Punto di Gio, sono il vostro G e finalmente questo è l'ultimo giorno del 2020. Complimenti GG a chi è riuscito ad arrivare fino a questo giorno. Purtroppo quest'anno è stato molto molto travagliato, almeno nel mio caso mi ha portato gioie e dolori, più dolori che gioie, però per fortuna siamo arrivati alla fine. Ed ecco perché dopo aver passato praticamente 12 mesi sul filo del rasoio, diciamo questo 2021 riparte con un po' di speranza. Perché? Perché il 2020 a me si chiude con, credo un po' tutto quanto in positivo. Il canale YouTube sta andando molto bene ragazzi e grazie a voi soprattutto. Io vorrei farvi notare che dal 2 settembre 2020 ad oggi, oggi è il 30 dicembre 2020, siamo arrivati alla bellezza di 2030 iscritti. Io non avrei mai immaginato che delle persone potessero trovare interessanti i miei video e potessero trovarli tanto interessanti da iscriversi e seguirmi in ogni video. Per cui ragazzi, grazie, ma davvero grazie di cuore. Quindi voglio darvi un piccolo spoiler su tutto ciò che succederà nel 2021. Allora, prima di tutto, raga, road to 10.000. Cerchiamo di... io voglio arrivare a 10.000 iscritti. Ormai ho capito, il canale sta crescendo, ci sono ottimi margini di crescita, quindi arriviamo a 10.000 iscritti e superiamoli, perché no? Non mettiamo limite alla provvidenza. Nei primi giorni di gennaio, oltretutto, tenetevi pronti, perché ci sarà un unboxing, ci sarà una review e ci saranno dei benchmark molto molto succosi di un componente che ho rivelato già in live su Twitch. Link in descrizione. E che, beh, vedrete a breve. Per quanto riguarda la programmazione di video, ragazzi, dato che i prezzi non sono ancora ben assestati per quanto riguarda le componenti PC, lasceremo stare le configurazioni per un bel po' di tempo. Anche perché non è possibile che faccia una configurazione e mi devo trovare 10 persone che dicono No, però se risparmiavi 20 euro su questo, potevi prendere un case che faceva schifo, un dissipatore così, però almeno avresti avuto la scheda mad che avevo una port USB in view. Sinceramente non ho voglia di andare a fare delle configurazioni che dovrebbero rientrare perfettamente in un budget e due ore dopo i prezzi non sono più quelli di quando avevo registrato. E credetemi, è successo con l'ultima configurazione. Continueranno i video sulle curiosità per quanto riguarda il mondo della tecnologia e dei videogiochi? Cavolo! Ho già praticamente due video in programma. Uno riguarderà la risoluzione. Un altro riguarderà il refresh rate dei monitor. E preparatevi perché saranno dei video belli carichi di numeri, così che possiamo ben spiegare come si gioca, perché si gioca bene a determinati refresh rate e a determinate risoluzioni e soprattutto quale sarà la migliore risoluzione a cui giocare. Preparatevi perché ne vedremo davvero delle belle. Continueranno gli streaming su Twitch, ovvio. Io vi chiedo scusa ma in questi giorni mi sono rilassato fondamentalmente. Avevo detto che avrei streammato di sera, però mi sono reso conto che la risposta del pubblico non è così alta come mi aspettavo. Quindi ho preferito prendermela di vacanza, almeno fino al primo di gennaio, raccogliere un pochettino le idee, cercare un po' di prendere nuovi spunti per fare qualcosina di nuovo. Comunque il 2 gennaio c'era live solo per abbonati su Twitch, quindi se non l'avete ancora fatto, link in descrizione, andate ad abbonarvi. Ragazzi non escludo che ci saranno delle live anche su YouTube, ovviamente, perché mi rendo conto che sì, Twitch sta crescendo, ma YouTube è il posto in cui mi seguono più persone. Quindi probabilmente ci saranno molte più live su YouTube, sperando che i server reggano, non come l'ultima volta che dopo 10 minuti so crashato praticamente, non per colpa mia, ma per i server di YouTube. Per chi è arrivato fino alla fine, fino a questo punto del video, ragazzi il 2020 per me è stato un anno strano, perché io ho finito il 2019 nella maniera peggiore. Nel senso ho avuto un brutto infortunio a un ginocchio, che mi ha costretto praticamente a stare fermo un bel po' di tempo, ma fermo proprio che non potevo neanche camminare bene, sono stato con le stampelle un bel po' di tempo. Io è praticamente da maggio, maggio-giugno, che riesco a camminare, camminare di nuovo come una persona normale, però è grazie a questo infortunio che ho potuto concentrarmi di nuovo su qualcosa da portare sul web, quindi credo di dover ringraziare la fine del 2019 e il 2020 per avermi portato fino a qui. Beh, diciamo di sì, dai. Ragazzi, io vi auguro uno splendido 2021, decisamente molto 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 meglio di quanto non sia stato il 2020. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i riferimenti ai miei social e ci sono anche i miei link affiliato, se volete andare a dare un'occhiata alla mia configurazione e magari acquistare qualcosina da Amazon.it. Infatti voi non pagate nulla in più e supportate il canale. Che dire, questo 2021 comincia bene e vedremo di farlo finire ancora meglio. Grazie mille ancora ragazzi, buon anno e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao belli!